Italia, una delle uve da tavola più conosciute. Ecco Pirlone. Questa è una nuova varietà qui in città. Ed ecco Ruby, che è una mutazione dell'uva Italia. Questi sono più da tavolo. Accanto a Pederneras. Qui per esempio a... Ai 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 ai! Poi siamo tornati con lo sport con il commento del mio pervertito marito.